Ciao ragazzi, sono Alessandro di Performance Lab e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con The Weeks Review. Questa settimana parleremo di dorsiflessione di caviglia. Devo essere sincero, questa settimana avrei avuto l'imbarazzo della scelta, i articoli, la letteratura a riguardo è veramente, veramente ampia. Come sempre dobbiamo fare una cernita, dobbiamo fare delle scelte e le scelte hanno vertuto su un'indicazione o comunque come sempre su un'idea generale, quella di andare a scovare qualcosa di particolare, qualcosa di non così scontato. Quindi abbiamo tralasciato per esempio tutta la letteratura riguardante l'atterraggio e la mobilità di caviglia che abbiamo trattato in passato ma comunque sappiamo essere uno degli ambiti centrali della ricerca sulla dorsiflessione e la performance ma anche l'importunio. Non vi voglio anticipare altro, vediamo che cosa abbiamo selezionato questa settimana, spero vi sia piaciuto. Il primo studio della settimana in cui ci siamo interessati alla valutazione più che altro della dorsiflessione, come vi dicevo nell'introduzione, in realtà ci saremmo potuti sbizzarrire in quanto gli articoli presenti in letteratura su questo argomento sono veramente tanti. Però ecco, quello che abbiamo cercato di vedere era se esistessero delle applicazioni a basso costo in grado di analizzare appunto in maniera efficace il grado di dorsiflessione. In questo caso ci siamo rifatti ad uno studio di Carlos Balsalobre con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare per un webinar che potete trovare ovviamente nella nostra Performance Lab TV e abbiamo appunto l'autore Carlos Balsalobre ha utilizzato la sua applicazione per iPhone Dorsiflex per misurare la dorsiflessione di caviglia nell'esercizio del test a carico naturale. Per questo studio sono stati analizzati 12 esercizi, 12 soggetti che hanno eseguito il test di affondo con il peso corporeo su ciascuna gamba in 5 occasioni separate ed è stato registrato l'angolo di dorsiflessione sia con l'inclinometro digitale professionale che con l'applicazione di dorsiflex. È stato visto che in un totale di 120 angoli misurati l'errore era veramente piccolo a livello statistico che quindi si potesse utilizzare, si può utilizzare un'applicazione a basso costo come Dorsiflex per valutare l'angolo di dorsiflessione in maniera professionale quindi andare oltre sia la valutazione tramite la distanza dal muro del piede e soprattutto senza l'utilizzo di un inclinometro che ha un costo decisamente più alto. Secondo studio della settimana in cui invece ci siamo, cambiamo un po' argomento diciamo, ci siamo concentrati sugli effetti dello stretching sui muscoli del polpaccio che chiaramente sono responsabili di una limitata dorsiflessione. In questa review e meta-analisi non è stato chiarito in realtà e quindi anche qui è interessante come punto di vista perché per quanto noi ne possiamo pensare in letteratura non c'è accordo su quale siano le tecniche e parametri di stretching più efficaci e è stato visto che lo stretching balistico non ha risultati positivi nel aumentare il range di dorsiflessione della caviglia nei sani mentre comunque lo stretching cronico statico è probabilmente ad oggi ancora il metodo migliore per migliorare la mobilità della caviglia in soggetti sani. Io credo sia uno studio interessante perché rivaluta l'importanza dello stretching statico su un'articolazione come quella della caviglia in cui negli ultimi anni si è insistito tanto sulla mobilizzazione in dinamico. Ecco, ad oggi la letteratura non ha quantomeno rivalutato queste nuove teorie. Terzo studio della settimana che valuta un altro aspetto interessante come cambia il rom della caviglia durante l'arco di una stagione di calcio ossia in che modo allenamenti e competizione vanno ad influire sia in acuto ovviamente che in cronico, parlo della competizione vanno ad influire quindi sulla capacità, sulla mobilità della caviglia e quali spunto ne possiamo ricavare. È stato visto che a inizio stagione, quindi prima dell'inizio degli allenamenti il rom era maggiore durante, scusate, rispetto a metà stagione e post stagione è stato visto che in acuto post partita questa andava a diminuire nelle 48 ore successive e questo è anche importante perché 48 ore dopo si riniziano gli allenamenti tendenzialmente se non prima addirittura quindi lo spunto che ne traggono gli autori è che la progressiva diminuzione del rom può essere un indicatore del rischio di infortunio ed è quindi necessario aumentare la prevenzione con esercizi di stretching e allenamento della forza eccentrica per quanto riguarda i giocatori di calcio ma credo che questo studio si possa assolutamente estendere a quasi tutte le discipline sportive. Inoltre è importante implementare le giuste strategie di recupero che siano volte a minimizzare l'alterazione del rom della dorsiflessione della caviglia a 48 ore dalla partita. Quarto studio della settimana che invece valuta se e come la articolazione talocrurale possa contribuire al range di dorsiflessione della caviglia durante il weight bearing lung test. È stato visto che in questo studio potete leggere qui come sono stati valutati gli atleti, ovviamente sono state valutate altre cose come la validità delle misure inclinometriche fotografiche l'associazione tra inclinazione tibiale e misura di distanza orizzontale però ecco quello che è stato visto in linea generale è che ci sono correlazioni forti tra misure radiografiche e fotografiche del range di fine movimento delle misure radiografiche, quelle dell'inclinometro e le misure radiografiche inclinometriche fotografiche dell'inclinazione tibiale e della distanza orizzontale di affondo ed è stato visto che l'inclinazione tibiale durante il weight bearing lung test si verifica principalmente a livello dell'articolazione talo-crurale e questo è l'aspetto più interessante perché è evidente che questa articolazione, quindi una limitazione strutturale oltre che funzionale di questa articolazione è estremamente importante, estremamente condizionante per quello che è il range massimo di dorsiflessione che i nostri atleti possono raggiungere ultimo studio della settimana che invece valuta l'associazione tra la dorsiflessione e il ginocchio valgo dinamico è stato visto se atleti che avessero una dorsiflessione più o meno accentuata di caviglia chiaramente riportassero questa misura e come sul valgismo dinamico del ginocchio è stato visto che in questa meta-analisi che alla fine ha incluso 17 studi una ridotta dorsiflessione di caviglia fosse associata fosse, scusatemi, sì, una dorsiflessione di caviglia ridotta, scusatemi fosse associata a valgo dinamico è stato visto coerenza tra i sottogruppi per le varie misurazioni della dorsiflessione di caviglia e quindi si concorda come una disfunzione di caviglia sia fondamentalmente riportata al ginocchio e tante volte in cui magari ci concentriamo sul ginocchio valgo andando a considerare il gluteo non dico che sia un errore ma lo è se ci dimentichiamo di valutare prima ancora la funzionalità della caviglia che abbiamo visto inficia notevolmente la mobilità o comunque la funzionalità del ginocchio come ogni settimana abbiamo ricercato gli articoli più interessanti su una determinata tematica spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a mettere un mi piace a commentare se avete qualche domanda, qualche dubbio qualche curiosità da esaudire vi ricordo che potete trovare tutti gli articoli e molto altro materiale sul nostro blog indicato al link qui sotto io vi aspetto la prossima settimana non vi dimenticate di seguire il canale ed attivare la campanella per non perdervi tutti gli aggiornamenti del nostro canale youtube alla prossima settimana un saluto ciao